È notevole perché è un protocollo che si aggiunge già a altri protocolli preesistenti in materia di gestione della spesa pubblica, questo in particolare riguarda i fondi strutturali, cioè quei fondi finanziati dall'Unione Europea gestiti dalla Regione Calabria che sono finalizzati per lo più alla coesione sociale, quindi interventi in materia di agricoltura, in materia di attività che hanno la finalità di rilanciare le zone depresse della Regione. Il controllo si esplica appunto in una collaborazione con la Regione Calabria, finalizzata soprattutto ad avere da parte della Regione i beneficiari di questi fondi, poter accedere da parte della Guardia di Finanza alle banche dati e svolgere insieme alle Regioni attività formative. Tutte queste attività sono fondamentali per fare degli controlli preventivi, cioè evitare che questi fondi siano gestiti da soggetti anche in odore di criminalità organizzata. È stato molto utile il rapporto con la Guardia di Finanza perché per esempio nella fase di accertamento delle pretese creditorie in sanità, in una regione come la nostra dove c'erano stati doppi e tripli pagamenti di fatture, il supporto della Guardia di Finanza è stato prezioso. Abbiamo potuto accertare le pretese creditorie dicendo ai presunti debitori che le loro richieste sarebbero state vagliate dalla Guardia di Finanza. Questo ci ha consentito di svolgere più velocemente e più correttamente questo lavoro. Importante però è anche questo protocollo perché riguarda la spesa dei fondi strutturali che sono la leva principale di politica di sviluppo della Calabria. Con questo protocollo si sviluppano attività anche preventive per evitare che ci siano frodi e che magari partano interventi che poi vengano interrotti e diventano a volte, come è stato più volte nel corso degli anni, delle cattedrali incompiute nel deserto di sviluppo della Calabria. L'obiettivo è proprio questo, quello di generare deterrenza e di prevenire comportamenti illegali, infiltrazioni nella criminalità organizzata ma anche semplicemente comportamenti opportunistici. Devo dire però che il supporto offerto dalla Guardia di Finanza e anche dagli altri livelli istituzionali in Calabria diventa anche un argomento per convincere imprese nazionali e multinazionali a investire in Calabria. C'è un enorme pregiudizio verso la Calabria perché si ritiene che la Calabria sia una regione dove non si può investire in sicurezza. Allora protocolli del genere servono a dire a queste imprese investite in Calabria perché non siete sole, perché ci sono tutti i livelli dello Stato impegnati a fare in modo che i vostri investimenti siano protetti, vigilati, garantiti, impegnati ad aiutarvi anche nella valutazione delle imprese locali di cui avvalersi perché ci sono tantissime ottime imprese calabrese e ci sono altre imprese che invece evidentemente hanno avuto episodi che meritano particolare attenzione. Quindi protocolli del genere servono a prevenire, sicuramente anche a reprimere, ma servono anche a dire a chi vuole investire in Calabria che in Calabria le istituzioni oggi permettono di investire in sicurezza e in legalità.